Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La principessa è delusa per le parole che le ha rivolto Baru e, dopo la puntata, ne parla con Delia Jessica, subito dopo la puntata, non ha nascosto il suo malumore in quanto profondamente delusa dalle parole che le ha rivolto Baru Nella stanza blu, la principessa si è confidata con Delia e l'attrice, dispiaciuta per lei, ha cercato di darle dei preziosi consigli Mi dispiace, ma non dar l'importanza esclama. Ci sono rimasta malissimo controbatte Jessica la quale ammette di essere delusa sia da Baru, ma anche se stessa in quanto, non volendo, si è affezionata ad una persona che non la stima Non mi va neanche di vederlo, aggiunge.Anche Delia non risparmia le critiche nei confronti del VIP, soprattutto dopo le offese ricevute per la sua storia d'amore con Alex, perché, prima di giudicare, non pensa a sé stesso? Lui ti deve chiedere scusa, aggiunge, rivolgendosi a Jessica Non sono arrabbiata, sono proprio delusa, conclude la principessa, delusa e amareggiata per l'accaduto Jessica riceverà delle scuse da parte di Baru? Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video